La sentenza del Tribunale dell'Aquila, le dimissioni dell'amministratore unico del Cogesa, Franco Gerardini, e il reintegro del vecchio Consiglio d'Amministrazione, riaccendono lo scontro tra i sindaci dei comuni soci della Società di Rifiuti di Sulmona, che opera in una sessantina di comuni dell'area Peligna, su Bequane e dell'Alto Sangro, compreso il capoluogo di Regione. Non eravamo contrari alla figura del Dottor Gerardini, noi eravamo contrari alle modalità in cui si erano svolte tutte le operazioni di approvazione e nomina dell'amministratore unico, in primis dalla revoca del CDA per giusta causa, che non ritenevamo fondate, ma soprattutto perché era mancato il passaggio nel controllo analogo, che ricordo per le società in aus è un elemento imprescindibile, quindi noi siamo contenti del ripristino di questa legalità, dopodiché adesso, sapendo quali sono le condizioni della società, bisogna in tutti i modi sedersi e immediatamente trovare la soluzione di sostituzione del CDA, che sicuramente da oggi è tornato in auge e in campo, ma che nessuno vuole perché vogliamo dare uno sprint a questa società che possa iniziare una vera e propria azione di risanamento, quindi il nostro obiettivo è quello di lavorare per il bene della società. Si arriverà a una soluzione? Necessariamente bisognerà arrivare a una soluzione, il più possibile condivisa, noi siamo per un'inversione di rotta, il più possibile tutti quanti insieme per cercare il più possibile di ridisegnare un futuro strategico per la nostra società, la società più importante del territorio. Nel momento in cui il Tribunale, con una sentenza che noi non condividiamo ma che rispettiamo, ha ritenuto non sussistere la giusta causa, non può non prendersi atto di questa decisione, quindi l'Assemblea adesso dovrà determinarsi, prendere atto chiaramente della situazione, ma il dottor Gerardini, cui peraltro va il ringraziamento mio per il lavoro importante, profuso in sole poche settimane di attività, lavoro importante e significativo, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista della politica dei rifiuti, quindi approfitto per ringraziarlo e ribadire il ringraziamento e la gratitudine mia personale e di altri colleghi sindaci, adesso si tratta di prendere atto di questo decreto del Tribunale dell'Aquila e quindi poi agire di conseguenza, vedremo gli sviluppi della situazione. Resta il fatto che in momenti difficili è necessario che lenti abbiano, siano gestiti, tutti devo dire, ma il cogesa in questo momento in particolare con criteri di professionalità, di adeguata professionalità in grado di soddisfare le esigenze, in grado quindi di corrispondere a tutti i bisogni.